Biblioteca connessa, ovvero suggerimenti di lettura e allora di cena. Proporli i giovani coinvolti nel progetto del centro esordio L'Isola che c'è della Biblioteca Diocesana San Tommaso d'Aquino di Andria. Sentiamo. Si chiama Biblioteca connessa e propone suggerimenti di lettura a chi è connesso sui canali social. A proporli ci sono i giovani ma anche ospiti a sorpresa. È un'iniziativa a cura del centro esordio L'Isola che c'è della Biblioteca Diocesana di Andria San Tommaso d'Aquino. Il centro esordio si occupa dal 2014 nel Dipartimento di Salute Mentale della ASLA BAT di Andria del disagio psicologico e psichico di persone giovani. I quattro protagonisti di questo progetto hanno un'età compresa tra i 20 e i 31 anni. Hanno in comune la passione per la lettura, la cultura e la frequentazione del centro, di cui però non sono né utenti né pazienti. Sono infatti persone che in un momento della loro esistenza, caratterizzato da malessere e sofferenza, si sono rivolti agli specialisti del centro esordio per ricevere aiuto, essere accolti senza giudizio, in un contesto diverso dal comune immaginario, un ambulatorio la cui sede fisica è stata offerta e incomodato d'uso dalla diocesi di Andria. Una struttura non stigmatizzante in cui gli operatori, due psicologi psicoterapeuti e un medico psichiatra e psicoterapeuta, cooperano al raggiungimento dei loro obiettivi di cura, con un approccio che mette al centro la persona e non la patologia, l'emozione e non solo il sintomo. Il progetto è stato reso possibile, spiega Silvana Campanile, responsabile della Biblioteca Diocesana Sant'Omaso d'Aquino, per il coinvolgimento della Biblioteca Diocesana, presso cui si è concluso il progetto precedente dal titolo Il Giovane Holden. Il gruppo si è integrato con la vita ordinaria della biblioteca, facendo prima un'esperienza a contatto con i suoi libri e con gli utenti, e poi diventando protagonista di una selezione di titoli di libri destinati ad uno scaffale della biblioteca stessa. È stato pensato come lo scaffale dei libri che fanno bene alla mente perché piacciono ai giovani, perché fanno pensare, distolgono dai brutti pensieri, sono belli da leggere perché raccontano storie appassionanti. Il passo successivo allora doveva essere la lettura condivisa in biblioteca, magari anche all'aperto nel suggestivo chiostro dell'ex convento carabellitano che la ospita. Ma la pandemia ha modificato questo progetto, non interrompendolo, bensì originandone uno nuovo, appunto la Biblioteca Connessa. Per aggiungere i lettori a casa, con un invito proprio di alcuni dei titoli scelti da questo gruppo di giovani e disponibili al prestito, si è pensato a dei video postati sui canali Instagram e Facebook della Biblioteca dell'Asle BT all'ora di cena. Un'indovina chi legge a cena perché a proporre un libro non ci sono solo i giovani, ma di volta in volta un ospite a sorpresa che legge una pagina del libro scelto.